Colleghe e colleghi, io credo che questo dibattito è utile se impariamo ad ascoltare le ragioni gli uni degli altri, se evitiamo sì di fare battaglie ideologiche e io sinceramente rimango sempre colpito quando sento infervorarsi per temi di questo genere, magari poi molto meno per questioni che riguardano invece i valori, gli ideali, la Costituzione del nostro Paese. Mi piacerebbe quindi che se questo dibattito per avere un'utilità appunto fosse un dibattito tra persone che si ascoltano, provassimo a ragionare insieme e evitassimo di fare posizioni caricaturali diciamo dei nostri interlocutori, nel senso che credo che nessuno in quest'Aula sia sempre a favore delle infrastrutture o sempre contro le infrastrutture per partito preso. Penso che ognuno di noi creda di poter esercitare la sua intelligenza nel valutare se le cose servono o non servono, prendendo in esame i casi concreti. Ora nel suo intervento in Commissione Trasporti del Ministro Lupi, dicendo anche molte cose che io personalmente ho condiviso sullo sviluppo del nostro Paese, in tema di infrastrutture a me è parso di notare che si desse alle infrastrutture in quanto tali e sempre una grande importanza per lo sviluppo del nostro Paese, come se investire di per sé in infrastrutture fosse il volano fondamentale e l'obiettivo numero uno della spesa pubblica del nostro Paese e dell'Europa. Io sinceramente non credo che sia così e penso che in una situazione come quella italiana odierna serva valutare invece quali sono le reali priorità e penso che l'onere della prova rispetto a quali sono le priorità ce l'abbia naturalmente chi propone le opere. Io mi limiterò a dire, proprio perché non ho una visione ideologica e penso che in molti casi le infrastrutture siano fondamentali e soprattutto in una fase in cui si discute addirittura di introdurre il dibattito pubblico sulle grandi opere in Costituzione, a provare a ragionare su alcuni singoli punti che a mio giudizio rendono non convincente questo tipo di infrastruttura. Si diceva, lo diceva mio collega prima, del crollo del traffico degli ultimi dieci anni, ci fu il famoso appello l'anno scorso dei 360 ricercatori e professionisti che chiesero il ripensamento del progetto. Il tema di vantaggi economici cui si faceva riferimento prima, rispetto al capitale investito mi pare che sia dal punto di vista dei costi e dei benefici, sia rispetto al fatto che a mio giudizio esistono altre priorità, pensiamo a quanto potrebbe essere utile investire nella congestione del traffico delle nostre città, delle aree metropolitane o nel conservare il sistema ferroviario storico, spesso legato al pendolarismo e, ahimè, molto trascurato in questi anni. Tema del rilancio dell'economia, cioè del ruolo anticiclico. Anche da questo punto di vista io credo che sia assolutamente trascurabile. In effetti, in questo caso abbiamo un'elevata intensità di capitale investito, ma tempi assai lunghi di realizzazione dell'opera, che mi fanno dire che anche da questo punto di vista esistono altre forme di spesa pubblica ben più utili. Mi fa piacere sentire in quest'Aula che molti hanno fatto riferimento all'importanza della spesa pubblica, spero di sentirlo anche in altre circostanze. Si diceva poi dei costi destinati ad aumentare, perché lo dicono alcune ricerche che credo che siano nella disponibilità di tutti. Si diceva del dato occupazionale. Anche qui, a me risulta che quest'opera potrebbe impiegare un migliaio circa di posti di lavoro, a fronte anche qui di molti miliardi di spesa. Io penso che allora queste risorse, che siano italiane, che siano europee, sarebbe molto meglio utilizzare per ridurre il costo del lavoro o investire in piccole opere che, come noto, danno molto più lavoro che non le grandi opere. Infine si rifaceva riferimento anche nell'intervento di Lupi in Commissione al fatto di rimanere agganciati a delle logiche europee, cosa che io ovviamente condivido. Il segmento della Torino-Leone è incluso appunto nell'asse 6, come si ricordava, uno dei 30 assi transeuropei previsti dall'Unione Europea, ma non previsto dalla stessa Unione Europea e dal Parlamento Europeo per quanto riguarda l'alta velocità, nelle stesse decisioni del Parlamento Europeo. Allora io, colleghi, invito a riflettere. Siamo in una fase delicata del Paese. Abbiamo posto questo tema delle infrastrutture, anche per rispondere al collega della Lega Nord, proprio perché pensiamo che il tema delle priorità sia all'ordine del giorno, cioè capire come devono essere investite le risorse, ripeto, che siano italiane o europee. Io non credo che se sono italiane bisogna stare attenti, se sono europei invece vadano buttate. Allora, da questo punto di vista, perché non proviamo ad operare un monitoraggio serio delle vere necessità, anche infrastrutturali del nostro Paese, che sono moltissime, in territori spesso abbandonati? E cerchiamo di stabilire insieme le priorità vere. Naturalmente tutto questo ragionamento, e concludo, sottende anche un ragionamento più generale sul modello di sviluppo, che a mio modo di vedere deve garantire maggiormente l'occupazione rispetto alle grandi opere. Deve garantire il rispetto dell'ambiente e anche una modalità diversa di condivisione delle scelte, anche con le popolazioni che subiscono questi interventi infrastrutturali. E infine, un utilizzo, io credo, più rispettoso delle scarse risorse pubbliche italiane e europee, con spese che davvero servano alla collettività. Grazie. Grazie. Ha chiesto di intervenire ora il deputato Umberto Dottavio. Ne ha facoltà. Grazie, Presidente.